. Domenica è morta a Stoccolma, in Svezia, l'attrice svedese Bibi Anderson, interprete di 13 film del regista Ingmar Bergman, tra cui Il posto delle fragole e il settimo sigillo Anderson, che aveva 83 anni, cominciò a recitare a 14 anni e divenne nota grazie al suo ruolo da protagonista in persona . Nella sua carriera vinse quattro premi Gul Balja, l'equivalente svedese dell'Oscar, una delle tre migliori attrici premiate al Festival di Cannes del 1958, per l'interpretazione di Ale Solne della Bibi, e nel 1963 vinse l'Orso d'Argento per la migliore attrice al Festival di Berlino, per l'amante di Bilbo Solan. . Oltre che con Bergman, Anderson lavorò con i registi americani John Wilson e Robert Goldman e con gli italiani Alberto Sorg, Sergio Gobbi e Marco Belletto. .